ciao a tutti benvenuti nuovamente nella playlist degli sciroppi nei video precedenti abbiamo introdotto la forma farmaceutica degli sciroppi abbiamo classificato tutte le tipologie abbiamo anche affrontato lo sciroppo semplice di saccarosio andando sia a parlare delle caratteristiche chimico fisiche che anche poi di tutti gli accorgimenti di natura tecnica ma anche siamo andati in laboratorio a ottenere uno sciroppo semplice di saccarosio vi metto tutti i link in descrizione cosa vedremo in questo video andremo ad affrontare la preparazione di sciroppi per la correzione del gusto si tratta di un argomento interessante in quanto il gusto di una forma farmaceutica liquida è percepito maggiormente rispetto ad una forma farmaceutica solida nei prossimi video poi faremo la parte pratica andremo a preparare proprio gli sciroppi aromatizzati iniziamo il viaggio dunque sempre con questa slide che ci offre la classificazione degli sciroppi ricordo che la ripropongo qui sempre perché serve a capire a che punto della trattazione siamo che poi se ci fate caso comunque segue più o meno la playlist ad ogni modo la conosciamo bene quindi possiamo passare avanti dunque lo sciroppo generalmente una preparazione dolce o comunque ce l'aspettiamo dolce sappiamo inoltre che il grado di dolcezza deriva dal tipo di dolcificante che si usa quando abbiamo fatto il secondo video la playlist che parlava della classificazione degli sciroppi e trovate il link in descrizione e in alto a destra parlammo del fatto che il gusto può essere un vantaggio ma anche uno svantaggio il fatto che alcuni sapori sono difficili da mascherare con la dolcezza del saccherosio o anche perché si ricorre ad aromi particolari ottenendo poi di fatto una preparazione per la correzione del gusto come si fa dunque questa tipologia di sciroppi allora per comodità li ho divisi in tre modi più che altro per distinguerli avere uno schema tutto qui eccoli metodo con gli estratti idroalcolici metodo con gli oli essenziali e metodo per adsorbimento sul talco vediamo il primo metodo questo è forse il più semplice perché si tratta solo di mescolare l'aroma allo sciroppo semplice quanto dell'uno quanto dell'altro dipende diciamo che però può essere un'idea fare un 5 per cento di estratto fluido idroalcolico di un determinato aroma e il restante 95 per cento in massa dello sciroppo semplice in questa maniera abbiamo ottenuto uno sciroppo aromatizzato e sostanzialmente non è variato molto il sistema di queste tipologie ne troviamo molti riferimenti in diverse farmacopee ecco qui vedete il cherry oppure l'orange e qui il chocolate syrup e questi sono tutti della farmacopea degli stati uniti ora qui potremmo andare a dissolvere il nostro farmaco per produrre così lo sciroppo medicato e via però certamente è possibile farlo se il farmaco è solubile altrimenti diventa una sospensione comunque ne parleremo meglio in un altro video per facilitare la solubilizzazione dell'estratto idroalcolico lo sappiamo già ma lo ridiciamo volentieri si può ricorrere alle diluizioni progressive come si prende quel 5 per cento in massa dell'estratto e ci si mette più o meno la stessa quantità di sciroppo poi si mescola bene successivamente si mette la stessa quantità di sciroppo nuovamente si rimescola bene e così via fino a terminare tutto lo sciroppo semplice ecco questo è proprio il semplice metodo delle diluizioni geometriche il secondo modo di ottenere uno sciroppo aromatizzato è quello di usare degli oli essenziali quindi non degli stati idroalcolici lo faremo è il metodo che useremo per esempio per produrre lo sciroppo aromatizzato la menta quanto olio essenziale va usato dunque non vi è una regola precisa ma è bene stare su percentuali davvero basse innanzitutto perché l'olio essenziale occorre maneggiarlo sempre con cura perché è molto concentrato poi perché ne basta veramente pochissimo una domanda potrebbe essere ma l'olio essenziale è solubile nello sciroppo ottima domanda la risposta è no e allora come faccio beh si ricorre ad una minima quantità di alcol a 96 per solubilizzare quella piccola quantità di olio essenziale e poi ci aiutiamo sempre con il metodo delle diluizioni progressive e aggiungiamo lo sciroppo semplice essendo l'olio essenziale sensibile al calore non dobbiamo fare questa operazione a caldo ma a freddo il terzo metodo per ottenere uno sciroppo aromatizzato è il metodo per adsorbimento in che cosa consiste si adsorbe l'aroma sul calco il calco è un recipiente ecco qui la scheda tecnica e come vedete proprio da questa scheda tecnica è idoneo all'uso alimentare il calco infatti viene usato come incipiente in capsule compresse una volta adsorbito l'aroma sul calco questa polvere viene dispersa in una quantità di acqua e successivamente questa sospensione viene filtrata più volte fino a totale di impidezza successivamente a questo filtrato si va ad aggiungere lo zucchero facendo lo sciroppo e poi si porta a volume con la quantità di acqua rimanente anche con questo metodo è consigliabile operare a temperatura ambiente oppure a temperature davvero basse in quanto gli aromi sono volatili quali aromi coprono quali gusti vi rimetto qui una tabella che abbiamo già visto la conosciamo bene sapori ed aromi corrispondenti per coprirli questa tabella utilissima in quanto potrete migliorare sicuramente la palatabilità di una preparazione considerando opportuni aromi da utilizzare bene termina qui la parte teorica sulla preparazione di sciroppi romatizzati nel prossimo video andiamo in laboratorio per vedere la parte pratica ecco se volete approfondire qualcosa o dirmi che cosa ne pensate o come avreste fatto voi scrivetelo nei commenti io sarò felicissimo di leggervi e di rispondervi come sempre vi ricordo che se avete piacere di iscrivervi al canale supportarmi è molto molto semplice basta cliccare su iscriviti e il gioco è fatto e se desiderate potete anche attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle novità è tutto sempre gratuito per qualsiasi informazione curiosità o preparazione scrivetemi alla cucinachimica.com e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.